Proprio adesso che ci dovevamo sposare. Ma te l'ho detto che il tipo di eristere aveva sette tipi di tisane diverse. Tecnicamente non l'ho lasciato io. Difidare, secondo me uomo con tisana non scopa. Ma mi stai ascoltando? Sì, poi torna. No, non torna, questa volta è diverso. Ti vuoi concentrare per favore? Ho capito, ma sono sette anni che sei in fin di vita. Sinceramente adesso vorrei parlare un po' delle mie sette tisane, ti spiace? Quale tisana hai scelto? Roma e coca a casa mia. Quando devi bere da sola in casa? No, quello sei tu, io non ero da sola. Indovina chi è tornato? Ah, ero awake? Sì. No, solito messaggino alle due di notte. E tu ero awake? Molto awake. Senti, c'è della frutta di merda in quel negozietto egiziano sotto casa, però in compenso il servizio notturno. Ma non ci doveva sposare? Sì, infatti si è sposato. Lei ha 17 anni, io gli ho detto che non sono gelosa. Però lui si sente in colpa. Lei è un altro, tu lo sai, vero? Non lo so, Claudio. No, tu lo sai e non me lo vuoi dire. No, non lo so. L'ho sentito come hai detto che io non sono gelosa. Ma io, era riferito a me. No, no, era riferito a me. È sempre tutto su di te, era riferito a me. Madonna, siete uguali in questo, uguali e insopportabili. Ma noi chi? Le tue e quell'altra, la tua ex. Ma quale ex? Eppure vagamente stronza. Infatti. Eh. Quindi? Allora, ne sei davvero sicura che è davvero finita? Ma se l'hai detto tu che è finita. Ma il gioco delle parti funziona così. Io devo dire che è davvero finita e tu devi dire a vedere che ritorna. Ma io te l'ho detto! Ma devi insistere, perché non insisti, perché? Senti. Allora, facciamo così, lavoriamo sulla comprensione, ok? Perché è finita, secondo te?